Appello ai cittadini di Livorno con le salvette Rosignano Marittimo del commissario per l'emergenza Enrico Rossi per la compilazione e la consegna delle schede per la ricognizione dei danni dovuti all'alluvione del 10 settembre scorso schede fondamentali per avere un contributo. Un appello perché manca poco tempo entro il 16 ottobre i cittadini devono consegnare compilate le schede B e le imprese le schede C per rientrare nella legge di stabilità 2018 ed avere la possibilità di vedere contributi statali in tempi rapidi. Se non si compilano queste schede non si avrà diritto a nessun rimborso e quindi è fondamentale. È la ricognizione e quindi si può stare alto, non importa documentare tutto, però questa ricognizione serve al Parlamento se lo potrà fare per stabilire un finanziamento specifico e poi a noi successivamente per indire i bandi dove le persone che sono state danneggiate potranno chiedere di essere ristorate e di avere un contributo. Per divulgare capillarmente le schede di ricognizione danni sono state messe in campo anche le associazioni di volontariato del Livornese per distribuire le schede di censimento danni e supportare i cittadini nella compilazione. Abbiamo bisogno fisicamente dei volontari che fra l'altro hanno già assistito i cittadini nella fase dell'emergenza perché tornino a bussare a quelle porte e a dire che adesso è il momento di fare una quantificazione del danno e provare a stare dentro ai meccanismi di legge che ci consentano, ci auguriamo tutti, di avere il massimo risultato possibile. Ma i cittadini dove possono ritirare le schede B per la ricognizione dei danni? La Regione ha aperto un ufficio nella sede del Giagno Civile in Via Nardini a Livorno. Altri due punti sono stati aperti dal Comune all'URP e al Centro Civico. A Rosignano ha aperto uno sportello in Comune e a Colle Salvetti altri due. Uno in Municipio, l'altro al Centro Civico di Stagno. Tutti i punti sono aperti in orario di ufficio. Per quanto riguarda le imprese, le schede C possono essere ritirate presso la sede della Camera di Commercio in piazza del Municipio a Livorno. Le schede possono anche essere scaricate dal sito www.regione.toscana.it emergenza Livorno. Poi le schede compilate vanno riconsegnate alla sede del Genio Civile a Livorno.